Ed è arrivato il momento della nostra raffica di mercato. Cominciamo dalla serie D, passi in avanti verso la firma per Federico Conti con il Cerniola. Conti è un centrocampista classe 88, ex Aprilia e Gavorano che si sta già allenando con il giallo blu di Michele Pazienza. Interessa ancora in attacco Filippo Maria Scardina, 8 gol con la Sicula Leonzio nell'ultimo campionato di Serie C. Obiettivi per la difesa a Milcare, Fiumara 98, ex Rieti e Pier Silvio a Campora, sempre 98, ex Paganese. Casarano sondaggio per Mario Marotta nelle ultime due stagioni a Cerignola. Se dovesse poi concretizzarsi il passaggio in Salento ritroverebbe proprio in panchina Vincenzo Feula. Notizia da Gravina. Fabio Romeo, confermato come calciatore nelle scorse settimane, lascia invece il calcio giocato per problemi fisici ed entra nello staff tecnico dei Murgiani. Dunque resta da Gravina. Sarà il vice di Antonio De Leonardis. Capitolo Brindisi ufficiale. Il tesseramento del centrocampista Brindisino Doc. Stefano Iaia ha già giocato a Brindisi. Questa sarà la quarta esperienza con i Messapici per lui. Nella passata stagione ha giocato invece con lo Stuni. Nuova offerta per Federico Cerone, extrequartista del Savoia. Potrebbe arrivare in giornata la firma di Loris Palazzo per l'attacco. Sempre aperta la pista che porta Stefano D'Agostino. In arrivo anche la conferma del portiere Pizzolato. Per quanto riguarda il Taranto, invece, nome accostato agli Ionici. Facundo Lescano, attaccante classe 96, 13 gol nello scorso campionato di Serie C con la Sicula Leonzo. Ci sono però anche tante realtà professionistiche sul calciatore. Il Nardò, che aspetta di tornare in Serie D attraverso la porta principale, ha un chiaro obiettivo per l'attacco. Si tratta di Antonio Caputo. Le parti sarebbero molto vicine alla firma. Caputo nell'ultima stagione, in eccellenza, con la maglia del Barletta. Due ufficialità all'Unione Calcio, Alessandro Amoroso, attaccante classe 97. Torna, di fatto, alla realtà bicegliese, dove ha militato nel 2015 in prima squadra. La novità in assoluto, invece, rappresentata da Salvatore Raio, la classe 95. Un centrocampista utilizzabile anche come esterno d'attacco. Dal dicembre del 2017 ha giocato con l'Atletico Bieste, con cui ha realizzato 5 gol nell'ultimo campionato di eccellenza. E ha raggiunto, come sapete, la finale di Coppa Italia di Lettanti. Triplo obiettivo per la matricola. Mola, Giuseppe Bozzi, attaccante ex Gravina, Ivan Di Federico, esterno offensivo, ex Corato e Udaccio Barletta. Daniele Sisalli, esterno, ex di Maltamura, che si sta allenando già con il gruppo adenato da Gino Zinfolino. Poi il suo tesseramento verrà valutato nei prossimi giorni.